no fallo passalo leggero leggero dove le pieghe sono così falle col colore leggero e qui per esempio non capito il casino fatto perché non ci si capisce niente dove c'è questa cosa dove vedi colore vai dai vedi comincia da questa striscia poi piano piano che fai ti si risalta poi di più la figura leggero là dove vedi che è più leggero il colore ok bene non mani un'occhio ok 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 Grazie a tutti.